guardate le foto guardate la gente guardate la gente si avvisano i signori viaggiatori che tra qualche minuto arriveremo nella stazione di Feritino eccolo qua il giornalista Giuseppe non la posso muovere non la posso muovere ce l'ho accollato guardalo ce l'ho accollato grazie oh e sono di Firenze eh lo so per questo l'abbiamo scritta perché sappiamo che lei c'ha la risposta grazie le partute le videa sempre grazie avete visto? Marco buona saluta ciao bene grazie grazie no a peggio un po' te ho qua ho visto questo a fianco con i miei documenti non potevo veramente ragazzi questo è Frendio ciao